Volevo il pensiero del professor Michetti proprio sulla questione dell'obbligo vaccinale. Sentiamolo. Allora, l'obbligo vaccinale è possibile per legge, perché lo dice l'articolo 32 della Costituzione, sempre nel pieno rispetto della persona umana. Per cui non è il problema l'obbligo vaccinale. Se ci sono delle ragioni che la politica ritiene che siano tali per le quali è importante introdurre una misura di questo tipo, quella misura si può assumere. Io non entro nel merito dell'obbligo vaccinale, ma se tu assumi l'obbligo vaccinale, non mi puoi emanare dei provvedimenti ostativi, ossia che mi vietano tutto e mi escludono dalla società. Perché? Perché il fine della nostra Costituzione è il pieno sviluppo della persona umana e soprattutto che non il cittadino, non l'uomo, ma la Costituzione dice che il lavoratore, pensa, il lavoratore, debba partecipare alla vita politica, economica e sociale. Per cui una persona che è idonea al lavoro, e chi è la persona idonea al lavoro per la Costituzione? Una persona che non è malata, una persona che non sta in uno stato di vecchiaia, una persona che non è inabile, una persona che non è invalida, una persona che non è in quel momento disoccupata. La persona che è abile al lavoro deve lavorare e tu gli devi consentire, nonostante l'obbligo, in sicurezza di poter lavorare. Per cui devi adottare tutti quegli strumenti che consentono in termini alternativi alla persona di continuare a lavorare. A lavorare, ma soprattutto ad attendere a quelli che sono i precetti di rispetto dell'essere umano. Perché la Costituzione mette al centro l'essere umano. Tu, una persona sana, non la puoi escludere dalla vita sociale, politica, istituzionale ed economica. Quella è una persona sana. Ecco, allora devi, puoi introdurre l'obbligo, ma devi, nel rispetto del consenso di quella persona, se la persona è consapevole e, voglio dire, esprime il proprio consenso a farsi il vaccino, va benissimo. Ma se non esprime il proprio consenso, tu non la puoi obbligare per il tramite di un trattamento coatto e non puoi, con prescrizioni ostative, fare una pressione in debita, ossia, in qualche misura, fin anche implicita, attraverso gli organi di stampa, attraverso dei provvedimenti così frustranti che la escludono dalla vita sociale del Paese. Questo è incostituzionale. Ma questo, voglio dire, lo potrebbe comprendere un bambino alla prima elementare leggendo il testo costituzionale. Ecco, per cui non è che sono contro l'obbligo o a favore dell'obbligo. L'obbligo è possibile, lo dice la legge, però non puoi porre in essere delle prescrizioni ostative perché la Costituzione parla che addirittura il compito della Repubblica è rimuovere gli ostacoli che non rendono effettivo il diritto al lavoro. Figuriamoci se una persona abile tu gli imponi dei divieti tali così frustranti che gli togli la dignità perché quando tu togli la retribuzione ad una persona tu gli togli ogni possibilità di progresso, di sviluppo, di sussistenza e per cui gli stai togliendo la dignità. Se il mezzo su cui si regge il Paese è il lavoro, il fine della Costituzione è la dignità. per cui quando tu togli il lavoro, togli la dignità, stai calpestando la Costituzione.